E' il giorno di San Michele, la devozione dei nisseni che si rinnova ogni anno. Lavori in via Romita, parla l'assessore comunale Fran Giamone. Sport, calcio, serie D, San Cataldese in gol dopo 10 secondi, Cittanova KO nel turno infrasettimanale. Allenamento dei giovani dello Sport Club Nissa con i tecnici del Verona. La pioggia lascia un po' di amare in bocca proprio nel giorno in cui la città attende con grande fermento la processione enorme del Santo Patrono. Eppure la devozione nei confronti di San Michele Arcangelo rimane una costante per i numerosi fedeli che anche nei giorni precedenti si sono recati in cattedrale per una preghiera, ammirare il suo simulacro, chiedere una grazia e accendere un cero, singolarmente oppure insieme alle varie parrocchie della città che hanno effettuato il pellegrinaggio. La devozione si nutre della presenza di questi volontari che appartengono alle tre associazioni devoti portatori, la deputazione di San Michele e anche la lega di San Michele Arcangelo. Oltre al loro contributo materiale, alla loro presenza, al loro coinvolgimento emotivo direi anche, stiamo cercando in questi ultimi anni di coinvolgere le varie parrocchie della città. Vengono tanti fedeli sparsi lungo tutta la giornata, portano i lumini, vengono a fare la loro preghiera e chiedere le grazie necessarie per le loro famiglie. Ecco c'è una devozione silente anche che non si vede ma noi che viviamo qui dentro la cattedrale notiamo. La diocesi di Caltanissette dunque con il coinvolgimento della parrocchia della cattedrale insieme al comune organizzano ogni anno i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo. Ma ci sono anche delle realtà associative che da anni collaborano, ciascuna con un ruolo differente. C'è chi accompagna la processione come la Lega di San Michele, chi si occupa del simulacro e cioè la deputazione, chi lo porta a spalla, i devoti portatori. Ciò che accomuna i loro componenti è la grande fede nei confronti del Santo Patrono. Per me è molto importante perché ho una devozione molto io verso San Michele e poi è una tradizione che si tramanda dai miei nonni, mio padre, miei zii, miei cugini eccetera eccetera. Io e la mia famiglia San Michele l'abbiamo chiamato, ci ha risposto tante volte e io lo servo come giusto quello che si deve per un credente, per un vedele. Io lo faccio con il cuore, con l'anima perché ripeto l'abbiamo chiamato con la nostra famiglia e ci ha risposto sempre San Michele, come San Michele e come tutti i santi. Sono onorato e fiero di poter dire che sono uno dei devoti portatori di San Michele. La nostra storia è bellissima, almeno credo che sia la storia mia sia la storia che possa essere la storia di tutti, anzi credo proprio che sia così. Mi è venuta questa voglia di essere uno dei portatori di San Michele. E quello che a noi spinge è un senso di devozione, ci spinge a fare questo grande piacere, un senso di devozione, un senso di commozione che ci tiene tutto il tempo, ci tiene in uno stato etereo. Ci dà una sensazione di essere sollevati da terra, ci dà tutti un inspiegabile senso di commozione e quasi tutti abbiamo le lacrime agli occhi, non si capisce perché. Però io so perché. Poi questo si manifesta, si acquisce in qualche modo ancora di più nel momento in cui c'è l'uscita dalla cattedrale e l'entrata dalla cattedrale. Quello credo che possa essere il culmine della nostra devozione, del nostro sentimento nei confronti di San Michele. Sentimento che c'è tutto l'anno ovviamente, però quello è il momento in cui credo, non lo so per quale motivazione, si esterna ancora di più. Era gennaio 2015 quando in Vieromita si verificò il crollo del muro di sostegno, portandosi via anche un pezzo di marciapiedi. Tanta paura, soprattutto per i residenti della zona e del tratto finale della strada interessato dal cedimento. Adesso, a distanza di poco più di sette anni, i lavori di messa in sicurezza sono iniziati già da qualche settimana. Lavori che saranno utili anche in vista del progetto di realizzazione del collegamento tra Vieromita e Vierocister, così come ci spiega l'assessore a ramo Marcello Frangiamone. Sono in corso i lavori per la sistemazione della tratta finale dell'attuale Vieromita, che parecchi anni orsono franò. I lavori consistono appunto nella risistemazione del muro di sostegno di questa curva, per appunto rimetterla, per risistemarla diciamo per come era previsto. Questo lavoro diventa fondamentale perché a seguire, sempre lungo la Vieromita, si innesterà quella che sarà la futura strada che partirà appunto da quella zona, quindi da Vieromita stesso, per arrivare fino a Vierocister. Si tratta di un lavoro che è stato finanziato dal PNRR per quanto concerne appunto questi lavori. Siamo in fase di progettazione, in questo momento è stato fatto il rilievo topografico dell'area, qui seguirà poi il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori e poi successivamente appunto si andrà in appalto e si realizzerà l'opera. Bastano 10 secondi alla San Cataldese per andare in gol a Cittanova, in Calabria, nel turno infrasettimanale di Serie D. E Raul Torregrossa a firmare uno dei gol più veloci della storia verde-amaranto e non solo. Un avvio fulminante che consente alla formazione di Matteo Bullo di portare a casa i primi tre punti della stagione in uno dei campi più difficili del Girone I. Dopo la rete, l'undici verde-amaranto non abbassa la guardia e controlla il match con il piglio della squadra di rango. Il Cittanova prova come può mettere alle corde la San Cataldese, ma Dolenti e compagni non si lasciano sorprendere, rischiando raramente il gol del pari e proponendosi più volte in fase offensiva con ordine e raziocinio, senza strafare. Con un solo obiettivo, vincere. Al triplice fischio finale, le urla di gioia di un massiccio numero di tifosi san-cataldesi in trasferta. I risultati della seconda giornata La classifica La prima nissa senza Alessandro Settineri in panchina e sostituito momentaneamente da Fabio Venniro, aspettando l'annuncio del nuovo tecnico, impatta 0-0 nell'andata di Coppa Italia giocata al Palmindelli contro l'Akragas. Una partita dove entrambe le squadre hanno badato di più il risultato che al gioco e quindi la qualificazione passa adesso nella gara di ritorno da giocare all'esseneto di Agrigendo il prossimo 12 di ottobre. Adesso i biancoscudati penseranno alla gara casalinga di domenica 2 ottobre contro la Parmonval, dove gli uomini del presidente Sergio Iacona proveranno a trovare la prima vittoria in campionato, chissà, magari con il nuovo allenatore in panchina. L'unica cosa che mi sento di garantire è che la società ha un progetto di crescita e che tutte le scelte che sono state fatte e che saranno fatte sono nell'obiettivo di questa crescita. Per cui a breve, tra qualche ora, annunceremo il nome del nuovo allenatore. Si tratta di una scelta di qualità, di persona che ha esperienza e grandi capacità e soprattutto anche disposta ad impostare in serenità un programma di crescita pluriennale. Quindi io invito soprattutto la tifoseria ad essere paziente perché noi siamo tutti nuovi, i giocatori sono tutti nuovi e piano piano si troverà l'assetto che dovrà dare le giuste soddisfazioni al pubblico di Caltanessetta. Sapevamo di affrontare un avversario arrabbiato, offeso e quindi poi se ci mettiamo pure il terreno di gioco diciamo che quando provi e pensi a fare gioco è sempre molto più difficile che difendere quindi tutto sommato è un pareggio che ci prendiamo ben volentieri e ci giocheremo tutto nella partita di ritorno. È stata una partita equilibrata dove il risultato credo sia giusto anche se noi abbiamo creato molte più situazioni da gol però ti ripeto in questo campo già non avere preso gol e spero di non avere perso nessuno è già una grande cosa. Continua annualmente l'affiliazione tra lo Sport Club Nissa di Natale Ferrande e l'Ellas Verona. Anche ieri ai campetti di calcio lombardo si sono ritrovati i ragazzi dello Sport Club Nissa per l'occasione vestiti in divisa con i completi della società scaligera che fu campione d'Italia nel 1985. Per l'occasione si sono ritrovati i tecnici nisseni con i tecnici del Verona motivo di confronto e crescita professionale tra di loro ma anche per i ragazzi dello Sport Club Nissa per far conoscere loro i metodi di lavoro di una squadra di serie A e per conoscere le basi del professionismo augurandoci che tra di loro possa uscire un campioncino in erba che possa giocare tra le file dell'Ellas Verona così come fece negli anni 90 l'attaccante nisseno Fabrizio Cammarata. Lo Sport Club Nissa ha questo gemellaggio, questa affiliazione con l'Ellas Verona è sempre un piacere ogni anno accogliere alcuni rappresentanti degli allenatori e quindi dei colleghi che lavorano a Verona con l'Ellas è un momento formativo importante soprattutto per i nostri ragazzi ma anche per noi tecnici perché è un tipo di confronto che ci fa crescere sulle metodologie di lavoro. È un'affiliazione che è nata grazie all'aiuto del nostro responsabile che è riuscito a trovare appunto questa società per permettere non solo a noi di imparare cose nuove ma anche ai ragazzi e agli allenatori del Nissa di conoscere comunque il mondo del professionismo. Amici di Trebimete un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì. Dopo una relativa tregua nella giornata di mercoledì giovedì una nuova perturbazione nordatlantica si tufferà nel Mediterraneo e andrà a interessare anche l'Italia determinando una forte instabilità su gran parte delle nostre regioni. La nuvolosità sarà così in aumento su tutte le nostre regioni fin dal mattino, vedete molte nubi o praticamente ovunque salvo qualche apertura in più che insisterà invece tra Sicilia e settori ionici. Dal punto di vista delle precipitazioni avremo acquazioni e temporali diffusi fin dal mattino che impegneranno Sardegna e regioni terreniche ma poi anche un po' tutte le altre regioni nel corso della giornata. Per quanto riguarda la previsione quindi ci aspetta una giovedì piuttosto instabile con acquazioni e temporali diffusi sui settori centrali specie quelli terrenici, localmente anche di forte intensità. Però vedete piogge e temporali impegneranno anche le altre regioni soprattutto il Triveneto e parte di quelle adriatiche. Mentre sarà più asciutto e con delle schiarite in Sicilia, sui settori ionici e in Puglia qui con temperature ancora vicine ai 30 gradi mentre al nord non si andrà oltre i 20-22 gradi. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli vi rimando all'app gratuita di Trebi Meteo. Servizio notturno Croce Verde Viale della Regione